Si è suicidato a Teramo nella notte, sembra soffocandosi nel suo letto, il 43esimo detenuto che nel corso dell'anno si è tolto la vita. A nulla sono darsi soccorsi. A decidere di farla finita è Giuseppe Santoleri, 77 anni, che era rinchiuso in cella per scontare una condanna a 18 anni per l'omicidio, lo ricorderete, della moglie, la pittrice Giuliese Renata Rapposelli, in concorso con il figlio Simone. Il delitto avvenne il 9 ottobre 2017 a Giulianova. Il cadavere fu ritrovato solo dopo tre mesi nelle campagne di Tolentino, nel Maceratese. L'uomo era rinchiuso nella sezione destinata ai detenuti per reati a grande riprovazione sociale, i cosiddetti protetti, del carcere di Castrogno, proprio per aver concorso con il figlio, esecutore materiale del delitto, secondo i giudici, all'occultamento del cadavere della ex moglie. Giuseppe Santoleri aveva da sempre manifestato uno stato di prostazione dopo la vicenda. Era stato condannato in primo grado nel 2020 a 24 anni di reclusione, pena poi ridotta a 18 in secondo grado. L'esecutore materiale del delitto, per soffocamento, della pittrice Giuliese, secondo i giudici, era stato il figlio Simone, condannato a 27 anni di carcere. Ormai, negli istituti penitenziari, è una spirale di morte senza fine. Sono già 43 i reclusi che si sono suicidati nel corso dell'anno, ricorda Gennarino De Fazio, segretario generale della Wilpa Polizia Penitenziaria. A questi vanno aggiunti i quattro appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Tutto ciò nell'indifferenza sostanziale del governo. Mentre alla riunione del G7 si discute, giustamente, di come conseguire il rilascio degli ostaggi in mano da Mass, in Italia non si riesce a proteggere i detenuti sotto la custodia dello Stato, con gravissime ripercussioni che investono persino i suoi stessi servitori, conclude Gennarino De Fazio.